Dalla casa dell'energia alle scuole, dal palazzo comunale alla fortezza, passando per gli uffici comunali e di teatri, sono in tutto 90 le strutture di interesse pubblico, getto di rilievo e schedatura nel PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è andato così ad aggiornare il regolamento urbanistico del comune di Arezzo. È un'operazione che ha riscosso grande successo sia dai banchi dell'opposizione che ovviamente della maggioranza e quindi l'approvazione all'unanimità è stata una bella cosa. Si tratta di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha messo a punto l'architetto Marzi, lavorando in questo primo stralcio soltanto sulla parte centro storico e andando a individuare tutti i percorsi e tutti gli accessi agli edifici pubblici che hanno dei problemi di accessibilità per i portatori di handicap. Quindi ci ha fatto attraverso un database relazionale molto complesso una graduatoria di difficoltà, anche se vogliamo di pericolosità, di questa mancanza di apprestamenti per l'accesso di portatori di handicap che ci consente di fare attraverso le priorità una individuazione delle opere da poter mettere in scadenza per eliminarle in maniera progressiva. Il piano non c'è? Quando prenderanno avvio i lavori? Dunque, andranno programmati i lavori. Ora che abbiamo il piano possiamo decidere quanta risorsa mettere, credo che ci sia già qualcosa nel bilancio, ma in maniera generica, e insieme all'assessore Gamurrini troveremo il modo di dare delle priorità a quelle situazioni che sono più gravi, o per l'importanza dell'edificio che deve essere raggiunto da coloro che non riescono a farlo naturalmente, oppure perché c'è un grande accesso, un grande afflusso, mi riferisco ad esempio a tutti gli uffici pubblici della Cadorna, quindi insomma c'è un lavoro da fare nelle prossime settimane. Il problema che rimane è quello che riguarda i privati, che comunque hanno dei problemi a rendere accessibili le proprie strutture a chi è un portatore di handicap. Sì, si parla sempre comunque di strutture private ma aperte al pubblico se si pone un tema del genere, quindi sarà una cosa da affrontare opportunamente con le associazioni di categoria, perché credo che si potrebbe, sfruttando anche il lavoro che ha fatto il Comune, estenderlo in qualche modo anche ai pubblici esercizi, ad esempio, e far sì che ci fosse da parte delle categorie economiche, magari in qualche modo associazione d'impresa con la parte pubblica, una richiesta di finanziamento per far sì che anche l'accesso a un esercizio pubblico sia oggettivamente facilitato, reso possibile per tutti.